Con decreto 154 del 16 dicembre scorso, la provincia di Salerno approva il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e di adeguamento miglioramento strutturale e impiantistico dell'Istituto Superiore Vico De Vivo in via Mazzarella, frazione di San Marco di Castellabate. La sicurezza degli edifici scolastici, dichiara il presidente della provincia Michele Strianese, è strettamente legata a quella dei suoi utilizzatori, per cui per noi è elemento prioritario dell'attività amministrativa l'adeguamento normativo delle nostre scuole attraverso il coordinamento del settore edilizia scolastic e patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio con il supporto del consigliere delegato all'edilizia scolastic Antonio Sagarese. L'obiettivo è quello di fronteggiare tutte le situazioni emergenziali che possano intaccare il regolare svolgimento del servizio scolastico con conseguente lesione del diritto allo studio e lo stato dell'Istituto Vico De Vivo di via Mazzarella, San Marco di Castellabate, rappresenta appunto un'emergenza su cui è necessario intervenire con opere di miglioramento, adeguamento strutturale ed impiantistico. Quindi abbiamo approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo complessivo di 100.000 euro, utilizzando risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione Campania a veliere sui fondi per il diritto allo studio.